La giunta municipale di Laurito d'Intesa con il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo ha approvato un'iniziativa per la lettura a favore dei ragazzi di quarta e di quinta classe della primaria e delle tre classi della secondaria di primo grado. Gli studenti residenti a Laurito, scrive il sindaco Vincenzo Speranza, per ogni libro letto usufriranno di un bonus di 30 euro. Si tratta non solo di un'occasione per riaffermare interesse per la nostra biblioteca comunale, ha detto il sindaco, ma soprattutto per distogliere i ragazzi dall'uso improprio ed alienante dei cellulari, stimolandoli a riappropriarsi della capacità autonoma di elaborazione del pensiero e contribuire con la lettura al sostegno per le rispettive famiglie. La forte sinergia tra il comune e l'istituto comprensivo rappresenta un importante incentivo alla lettura. L'Italia è agli ultimi posti in Europa per percentuale di lettori e l'iniziativa di Laurito viene anche lanciata in un momento particolare che vede gli studenti trascorrere più tempo in casa anziché fuori. Vuole essere un modo per ricordare i ragazzi che non esistono solo gli strumenti tecnologici ma anche i libri, la cui lettura offre diversi benefici, porta ad arricchire il lessico e a migliorare le proprie conoscenze, oltre ad allenare la memoria. Rende più forte la capacità analitica del pensiero, innalza il livello di attenzione e concentrazione e favorisce le abilità di scrittura. La lettura inoltre crea un coinvolgimento cognitivo e influisce attivamente sull'empatia, la percezione sociale e l'intelligenza emotiva. Gianni Rodari diceva vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti ma perché nessuno sia più schiavo. La lettura è un'arma per la propria libertà, per la capacità di aprire la mente e di favorire il proprio spirito critico. Chi legge è meno manipolabile, è la storia che ce lo insegna.